Mai come in questo momento una banca di territorio di prossimità può svolgere un ruolo centrale nel rilancio dell'economia sia domestico, familiare che ovviamente imprenditoriale. Quindi continueremo ad operare nel solco della tradizione con degli elementi di novità che credo siano necessari visto che comunque il panorama sta cambiando, sta evolvendo in maniera anche veloce. Banca Valdichiana dopo il recente e profondo rinnovamento della governance riparte proprio dalla provincia di Arezzo considerata sempre più centrale nel progetto di crescita. Il giro d'affare si sviluppa infatti per il 40% proprio nella provincia aretina e intanto c'è il Mutuo Day. Cosa succede nel Mutuo Day? Nel Mutuo Day è una giornata che vedrà le nostre filiali, sei filiali di tutte le nostre banche, aperte nella giornata di sabato dalle 9 alle 13. È una giornata evento, una giornata nella quale vogliamo sostanzialmente mettere a disposizione la banca per tutti coloro i quali avessero la necessità di ricorrere a un mutuo per l'appisto della prima casa. Ovviamente la banca sarà aperta, come le dicevo, nell'ora delle 9 alle 13. Chi è interessato può recarsi presso le nostre filiali e ottenere tutte le informazioni utili a poter valutare, progettare, forse l'investimento della vita, l'acquisto della casa. Devo dire che l'ulteriore elemento importante è il fatto che riserveremo in questa giornata delle condizioni economiche particolarmente vantaggiose. Lo saranno un po' di più per i nostri soci, nello spirito di quello che è la banca di credito cooperativo. E altra cosa importante è che le condizioni che verranno definite nell'incontro della giornata saranno tenute ferme per i successivi 60 giorni, in maniera tale da dare la possibilità a chi volesse fare un investimento per l'acquisto della prima casa, di programmare con la sufficiente tranquillità e serenità questo momento importante.